Il seno non si esibisce, quello che sta facendo lo faccio a casa, qui ci sono bambini. Con queste parole una mamma che stava allattando il suo bambino su una panchina di un parco giochi in Messico è stata aggredita da una coppia di passanti. La donna ha cercato di difendersi spiegando che il suo era un comportamento del tutto normale ma non c'è stato verso e di fronte all'insistenza della coppia è stata costretta ad andarsene. Il video che è diventato virale sui social network, suscitando forte indignazione, è stato reso noto dall'Unicef nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza circa i bassi tassi di allattamento al seno in Messico. Grazie! 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 Grazie!